ciao salve a tutti guardate che bella questa fioritura di una varietà di cardo poi vi rammenterò il suo nome scientifico guardate che bella come vi mostro ci sono tutta una serie di fioriture molto importanti che danno un nutrimento sostanza alle nostre straordinarie api bellissima questa fioritura ci sono altre come le inule quali danno priorità perché hanno anche una fioritura sufficientemente breve molto intensa ma breve ma come avete visto ci sono tutta un'altra serie di fioriture molto importanti che raccolgono e che gli danno molta sostanza un saluto a tutti